Aveva resistito per quasi 11 anni Isabel Di Noir, la prima persona al mondo ad aver subito un trapianto al viso. La donna di 49 anni è morta a Damien nel nord della Francia. Nel 2005 era stata sfigurata dopo che il suo cane, un labrador, l'aveva aggredita e azzannata al volto. La donna è scomparsa forse a causa di un tumore lo scorso aprile, ma i familiari hanno dato la notizia solo oggi.